La famiglia Falvo, con oltre 40 anni di esperienza nel settore dei vini, nel 1999 acquista e rifonda la masseria Livelli, con l'amirevole volontà di realizzare un prestigioso progetto in Puglia. La masseria sorge sull'antichissimo sito messapico, che domina la fertile e solare piana del Salento, alle porte di Cellino San Marco, a metà strada tra Brindisi e Lecce. Il suo antico proprietario, il marchese Antonio De Viti De Marco, economista leccese di fama internazionale, professore universitario e deputato del Regno d'Italia, di Livelli fece un'azienda vitivinicola presa a modello in tutto il meridione. Oggi, la masseria restaurata è costituita da 33.000 metri quadri di superficie, di cui 3.750 comprendono uffici, zona ricettiva, locali di vinificazione, di invecchiamento e di stoccaggio. Le botti di barrique, custodite in un'ampia cantina, preservano il prezioso vino e un impianto di condizionamento, regolato su 16 gradi, garantisce una temperatura ottimale. Tutti gli impianti di ultima generazione sono dotati di controllo termico, di sistema di micro e macro ossigenazione, di gestione di controllo computerizzato per le varie fasi lavorative. Inoltre, la flessibilità di queste macchine consente di adottare il ciclo di lavorazione a qualunque specifica esigenza enologica delle varie uve. Si trovano nello stesso complesso, opportunamente separati, il reparto di imbottigliamento e quello di affinamento del vino in bottiglia.